Ecco, così ne parlavamo anche un po' fuori onda, è molto importante l'incontro che voi avrete in regione, vi giocate tanto con questa partita, perché sembra, lo ribadisco perché effettivamente chi ne vive al di fuori non percepisce la drammaticità di una situazione da parte di agricoltori che hanno la propria attività produttiva legata a queste scorribande di animali selvatici, che con tutto il rispetto dell'animale selvatico che va gestito appunto, però protetto in eccesso può provocare veramente dei problemi. Su che cosa vorreste puntare voi l'attenzione? Lei mi diceva, noi non facciamo assolutamente, non ostacoliamo l'attività dei cacciatori che viene rispettata, cerchiamo di spiegare bene questo aspetto. Sì, è un passaggio che noi facciamo all'interno della legge della 157, quindi della nostra modifica. Noi oggi cerchiamo di dividere le due attività, la parte faunistica con la parte venatoria. La parte faunistica riguarda proprio la salvaguardia del territorio, la salvaguardia di chi lavora all'interno del territorio e quindi degli agricoltori. L'attività venatoria invece l'attività di caccia e quindi noi non andiamo a precludere l'attività di caccia in nessun modo. L'attività di caccia è un elemento importante. Che ha una sua regolamentazione. Che ha una sua regolamentazione, che è regolamentata all'interno della 157, che noi non vogliamo andare a modificare i parametri e l'organizzazione di questo, ma vogliamo invece valorizzare la parte faunistica, che è la parte invece legata all'ambiente e al territorio e soprattutto agli agricoltori che vi abitano all'interno di questo. e quindi noi abbiamo oggi la necessità di tutelare il mondo degli agricoltori. Ecco, intanto è arrivato un messaggio, vediamo che cosa dice. Buongiorno, abito a fianco dei campi coltivati a Grano Turco e da adesso, sino a novembre, sono sempre invaso da cimici nere e verdi. Cosa posso fare? Mi dicono che la responsabilità è degli agricoltori. Grazie. Purtroppo la responsabilità... Non è fauna selvatica questa, maestro. La forma non è fauna selvatica, il problema della cimice è un grosso problema. Con la Regione Veneto abbiamo cercato oggi di trovare una soluzione per gli agricoltori, perché ha ragione il nostro telespettatore, ma i nostri agricoltori hanno danni immensi, grossissimi da parte della cimice, sia per quanto riguarda i seminativi, quindi il mais in quel caso, ma soprattutto anche i frutticoli, quindi quelli che hanno prodotti peri e meli, perché questi cimici vanno all'interno del frutto e lo rovinano sostanzialmente. Quindi la Regione è intervenuta in tal senso, la Regione Veneto è intervenuta in tal senso, prendendo un bando e dando un contributo agli agricoltori per cercare di contenere l'invasione di questi cimici con delle reti anti-insetto. È chiaramente insufficiente questo. Oggi vi è la necessità... Anche le cimici provocano non pochi problemi, oltre che i cimici... Noi abbiamo 670 ettari nella bassa padovana di frutteti che hanno grossi problemi per quanto riguarda la produzione e la qualità del prodotto che oggi loro hanno. Sono endemiche queste cimici oppure sono state importate? Sono state importate e per niente si chiama cimice asiatica, ma detto questo noi oggi vi è la necessità invece di avere un rapporto anche e soprattutto con l'università per cercare di trovare quei animali che possono contrastare la cimice e quindi vi è la necessità oggi insieme con l'università di approvare quei studi che cercano di contenere l'invasione delle cimici, ma anche delle cavallette per quanto riguarda i colli ugani e anche altri insetti. Oggi vi è un problema e nel momento in cui interveniamo su questi insetti, attenzione non dobbiamo intervenire quindi con prodotti fitosanitari su insetti utili per dire le api, perché le api sono gli altri elementi importanti invece per gli agricoltori, senza le api non c'è vita e quindi noi dobbiamo tutelare le api e quindi intervenire sulle cimici non vuol dire utilizzare prodotti fitosanitari che poi vanno anche a incidere sugli insetti utili, ma dobbiamo invece trovare quei animali che diano la possibilità del contenimento delle cimici. Esistono? Esistono, si stanno facendo degli grossi esperimenti anche a livello europeo, ma oggi noi dobbiamo avere un rapporto più concreto con l'università di Padova, cosa che la regione Veneto sta già iniziando, ha già iniziato un lavoro di questo tipo. L'anno scorso mio papà ha avuto l'amara sorpresa di trovarsi tutte le barbatelle distrutte dai cinghiali, meno male che non è la sua attività ma un suo hobby che purtroppo ha dovuto lasciare per l'eccessivo onere. Purtroppo nel caso specifico è un hobby, noi abbiamo più di 1600 aziende agricole nel parco dei Colli Ugani che quotidianamente vivono e vivono sostanzialmente dell'attività agricola, vivono con il problema dei cinghiali e quindi capite voi oggi il problema della fauna selvatica soprattutto su determinati territori quant'è elevato per quanto riguarda il mondo delle agricolture. Quindi c'è veramente devastante il riguardo, quindi non c'è tanto da scherzare. Oltre a questo presentate qualche altra istanza con l'occasione, quindi qua stiamo parlando di fauna selvatica anche se a Latere giustamente con di cui noi sono stati rispettatori ci sono altre dinamiche, altri problemi, quello delle cimici o altri insetti invasori, tra virgolette alieni perché vengono da altre realtà un po' importate. Sì, nel ragionamento della 157 noi interveniamo su alcuni punti per noi fondamentali, il primo appunto la suddivisione della protezione con la gestione e quindi questo è una rivoluzione rispetto anche a tutta una serie di interventi che poi si fanno sulla fauna selvatica. L'altro aspetto importante è appunto il rafforzamento e l'autotutella degli agricoltori, cosa che abbiamo già detto precedentemente e quindi dar la possibilità agli agricoltori anche di cacciare all'interno dei propri territori con ovviamente le dovute autorizzazioni e soprattutto con le dovute autorizzazioni appunto di selvatore. L'altro elemento è il risarcimento del danno perché oggi vi è la necessità che siano gli agricoltori che siano risarciti nella maniera adeguata e quindi abbiano sia gli importi del danno sia per quanto riguarda i danni diretti, nel senso che se c'è un attacco dei lupi quindi nel caso specifico delle mani, delle mani eccetera, ma anche tutti quei danni indiretti. I cinghiali soprattutto nel territorio dei Colli Ugani devastano anche il territorio e quindi creano anche problemi idrogeologici all'interno di quel territorio e quindi vi è la necessità oggi di affrontare anche quelle tematiche e quei risarcimento. Quindi per noi questi sono aspetti importanti che sono inclusi all'interno della riforma della 157 che venerdì 17 andremo a presentare i regioni insieme anche ad altri nostri colleghi delle altre regioni d'Italia e quindi è anche un'iniziativa nazionale della nostra confederazione CIA agricoltori italiani a livello nazionale. Quindi è la CIA che lo fa questa iniziativa? È la CIA che fa questo tipo di iniziativa, lo fa a livello nazionale ma anche a livello regionale su tutte le regioni d'Italia compreso appunto anche il Veneto per venerdì. Infatti, ne risentono di più i piccoli agricoltori oppure anche le grandi estensioni agricole di questa fauna selvatica? È generale, nel senso che ne si sentono sia i piccoli che i grandi. Quando si parla delle malghe dell'Asiago si parla di aziende, di malghe da 100-150 ettari in cui va una mandria anche di 100-150 capi e quindi un numero importante, aziende importanti che producono anche prodotti importanti di alta qualità come l'Asiago. Esatto, questo è importante sottolinearlo perché non è una questione di piccoli che... Assolutamente, qui vi è la necessità di intervenire per dare la possibilità agli agricoltori e soprattutto a questo tipo di attività della sopravvivenza perché di questo oggi si sta parlando. Ecco, lei diceva anche che vanno a compromettere l'assetto del territorio in qualche modo, idrogeologico del territorio, che è un assetto molto fragile tra l'altro. In questo momento poi abbiamo degli afflussi di acqua concentrati, poi abbiamo avuto un inverno siccitoso, poi non so cosa ci aspetta e l'agricoltura ne sta risentendo. Guardi, ormai si parla di eventi climatici ma ormai non si parla più di eventi, ormai 20 giorni fa parlavamo sul problema della siccità e adesso si parla del problema della troppa acqua e quindi del problema che noi abbiamo oggi... che sta danneggiando in maniera importante il nostro territorio. Nell'ultima settimana si è avuto grossi problemi per quanto riguarda la piovosità e quindi per quanto riguarda tutte quante le produzioni a seminativo il mais ne ha risentito in maniera importante. Basti pensare che per quelle aziende che hanno seminato il mais c'è il problema del germoglio e quindi il problema delle asfissie, quindi si dovrà riseminare. A riseminare addirittura? Eh sì, perché nel momento in cui c'è troppa acqua ovviamente c'è l'asfissia e quindi il seme muore e quindi si deve riseminare con importi anche importanti per quanto riguarda l'azienda agricola. E poi anche questa troppa acqua non dà la possibilità agli agricoltori di seminare nei tempi corretti e quindi creando anche grosse difficoltà su questo. C'è avvenuta anche la grandine e quindi ha compromesso in parte anche la produzione vitivinicola e quindi con riduzione del 20-30% della produzione e su questo vi è anche un altro aspetto, lo dicevamo prima per le api, un altro aspetto importante, il freddo. Il freddo non permette alle api di andare a impollinare i nostri 600 ettari di peri e meli nella bassa padovana ma anche l'actinidia e quindi questo provocherà sicuramente una riduzione della quantità del prodotto e anche sulla qualità del prodotto e quindi anche su questo il freddo sta incidendo in maniera negativa per quanto riguarda l'assetto anche ambientale e ecologico che noi oggi viviamo. Perché questo sarebbe stato il periodo buono, non è che si recupera poi successivamente. Purtroppo la natura ha questi tempi e nel momento in cui noi non riusciamo nei tempi stabiliti dalla natura e quindi dagli effetti a intervenire ovviamente ne risentono gli agricoltori perché le produzioni sono ridotte ma anche la qualità è ridotta. Però il maggio si presenta così? Ormai mi sembra che il maggio sia quasi terminato e quindi penso che purtroppo il problema è grossissimo per quanto riguarda gli agricoltori. Gli eventi climatici ricordo che è una partita complessiva che negli ultimi dieci anni ha creato danni agli agricoltori a livello nazionale più di 70 miliardi di euro. A livello nazionale? A livello nazionale, quindi pensate, pensiamo tutti noi le difficoltà del mondo agricolo nell'affrontare anche questi elementi. Ma è solo l'Italia che è stata colpita da... Non solo l'Italia a livello europeo, tant'è che oggi si sta parlando anche della modifica dei regolamenti PAC che è la politica agricola comune e la modifica, uno degli elementi importanti della modifica della politica agricola comune in cui CIA sta intervenendo è quello di dare la possibilità agli agricoltori delle assicurazioni perché l'altro elemento è proprio questo, cioè dobbiamo dare la possibilità ai nostri agricoltori di farsi delle polizze assicurative che tutelano almeno la produzione e quindi non ci arricchiscono ovviamente ma almeno mantengono i costi di produzione allineati con l'assicurazione. Quindi oggi gli agricoltori devono sempre più assicurarsi per non incorrere a queste difficoltà che gli eventi climatici stanno causando. Parliamo ancora di questo, poi parliamo appunto del discorso dell'acqua e non soltanto, con anche la vostra partecipazione se volete come sempre scriverci oppure scrivere successivamente la trasmissione, però adesso abbiamo la pubblicità. Pochi secondi. Grazie. Grazie a tutti.